Io già da giorni ho mobilitato i nostri parlamentari, i consiglieri regionali, perché non possiamo aspettare le scelte di altri, ma soprattutto ho fatto una controproposta. Ho espresso, messo per iscritto il nostro diniego assoluto ad una scelta di questo tipo, motivando anche perché questa è una città più grande di alcuni capoluoghi della nostra regione. Fra l'altro l'utenza che serve questi uffici sono quelli della Valle del Metauro e del Cesano, un'utenza maggiore a quella degli uffici di Pesaro. Se vogliono veramente risparmiare, ottimizzare, noi abbiamo uno spazio importante in questa città che è l'escaserma Paolini, sulla quale con il demanio si stanno già facendo dei percorsi per trasferirci un'altra parte di amministrazione dello Stato. Potrebbe ampliarsi quel progetto e prevedere lì anche gli uffici dell'agenzia delle entrate. Dirò di più, potrebbero prevedere tutti gli uffici provinciali, a questo punto risparmierebbero anche negli affitti degli uffici di Pesaro. Non è detto che tutti i servizi, anche di carattere provinciale, si debbano trovare sempre nella città capoluogo. Possono essere ubicati anche nella città di Fano. Grazie a tutti.